buonasera e benvenuti a tutti in questo lunedì dalle ore 22 puntualissimi come sempre ad ogni appuntamento di overdose saluto tutti quelli che sono già in chat nazario gabriele pasquale tanta altra gente che sta arrivando saluto anche quelli che vedranno questo video in differita oggi abbiamo con noi una persona a me molto cara un amico giancarlo berri berardi lo conosco da quando abito in italia fondamentalmente è stata una delle prime persone che ho conosciuto e con cui è nata questa amicizia che dura dopo 17 anni forse 27 anni anche 27 29 anni ancora oggi non si contano più i giorni lui è art director un esperto in comunicazione lavora attualmente in vesto pazzo e si occupa del del brand di questo marchio importante che abbiamo in italia di abbigliamento e non solo Giancarlo benvenuto in questo appuntamento grazie per aver accettato aver accettato il mio invito ciao grazie a tutti ciao grandissimo senti allora stavamo parlando precedentemente un po volevamo oggi parlare quindi di art direction di brand di comunicazione tu sei entrato in vesto pazzo mi stavi dicendo da quando si sono affacciati al mondo business to consumer esattamente a quel punto si sono trovati a strutturare diciamo una vera e propria agenzia all'interno della loro azienda da quel punto hanno dovuto chiamare diverse figure insomma all'interno da 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 mettere in questi uffici quindi loro prima si occupavano di business to business e poi sono passati al business to consumer che cosa vuole dire questo all'interno di un'azienda quali cambi cambi devono fare i cambiamenti sono molti è stata da parte loro è stata una una scommessa che devo dire al momento insomma ha già ripagato abbastanza praticamente loro erano un'azienda che si occupava semplicemente di rifornire a terzi sostanzialmente che erano poi negoziati che vendevano poi ai consumer finali sostanzialmente e loro da lì hanno deciso invece di incominciare a vendere loro stessi il proprio brand e quindi hanno creato innanzitutto un negozio pilota che sta al centro di roma sta praticamente a largo largo di torre argentina sostanzialmente in pieno centro che avete aperto mi sembra quanto un anno fa un anno fa ormai un anno e pochi mesi praticamente c'è stata l'inaugurazione a giugno dello scorso anno quindi proprio nel cuore di roma sono 220 metri quadri e praticamente lo spazio non so se se c'è qualcuno di roma probabilmente lo conosce c'era prima la chiave che era un negozio che vendeva diciamo tutto oggettistica e un pochino etnica questo tipo di cose tra l'altro era anche un cliente di vestopazzo cioè comprava da vestopazzo alcune cose ecco perché li conoscevano loro a un certo punto hanno deciso di vendere a vestopazzo ai due dirigenti era venuto insomma questa idea di incominciare ad affacciarsi sul business to consumer e da lì è nato questo progetto e quindi hanno innanzitutto creato questo negozio pilota in più adesso sta partendo il franchising e abbiamo già in ballo l'italia c'è probabilmente la spagna e probabilmente anche la francia quindi è qualcosa di abbastanza grosso è interessante perché poi ti trovi a dover in qualche modo progettare coordinare tutta tutta l'attivazione no di questa cosa esattamente quindi qualcosa per l'italia qualcosa per la spagna qualcosa per la francia insomma la responsabilità che c'hai addosso non è da poco no è abbastanza infatti il lavoro è aumentato in maniera esponenziale e credo che dovremmo strutturarci ancora perché già se parte il franchising come dovrebbe partire sicuramente a settembre ottobre avremo bisogno di sicuramente di altre risorse ok quindi tutte le persone in ascolto sintonizzate che il programma si apre qualche posizione in questo passo che tra l'altro avete sede a roma no? sì abbiamo sede a roma no volevo solo correggere una cosa in realtà il core business dell'azienda è bigiotteria sostanzialmente bigiotteria accessori e poi adesso da poco è nato l'abbigliamento ma il cor diciamo il 50 per cento di tutto il fatturato viene dalla bigiotteria in particolare da due collane di questa bigiotteria sostanzialmente da da due perché ci sono dei sottobrand delle collezioni ecco il termine più adatto e due di queste sono quelle che fanno diciamo in totale il 40 per cento e infatti su questo ci sono delle strategie che stiamo mettendo in atto per evitare questo un'azienda non si può affidare magari il 50 per cento del proprio fatturato su una o due collezioni che se cadono quelle cade tutto insomma sostanzialmente quindi stiamo lavorando anche su questo c'è stata l'ultima riunione con tutti gli agenti che lavorano che lavorano per il mercato italiano che sostanzialmente continuano a lavorare sia per il business to business e anche ora per il franchising e da lì abbiamo insomma incominciato a parlare anche di questa cosa di diversificare il mercato ed ecco perché è nato l'abbigliamento in questo senso chiaro chiaro ok quindi è importante diversificare e ogni volta che diversificate si deve creare un brand un logo un qualcosa che sì esattamente ogni volta che ti affacci su un mercato nuovo per esempio se passi dalla bigiotteria gli accessori ancora restano più o meno sullo stesso piano di comunicazione ma già con l'abbigliamento ecco lì che devi mettere in atto una vera campagna sostanzialmente quindi un lookbook e il lookbook sostanzialmente sono uno shooting della campagna ambientato sostanzialmente che serve sia per il business e anche quei cataloghi che trovate nei negozi che non sono vere e proprie brochure semplicemente sono degli scatti sostanzialmente della collezione ambientati ed è uno strumento che si usa molto lo utilizzano diciamo quasi tutti i brand che lavorano nel campo del fashion e già mi sono scordato cosa stavo dicendo perdonate hai detto quello giusto ok la cosa volevo chiedere visto che abbiamo in ascolto dei fotografi saluto in particolare Gabriele che ha chiesto che tipo di posizioni cercherete voi collaborate senza fare nomi insomma collaborate con un fotografo fisso o siete aperti a collaborazioni barra interpretazioni cioè se un fotografo si può candidare si guarda noi come no 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 anzi attualmente noi lavoriamo diciamo con un fotografo fisso che è quello che scatta lo shooting della campagna però sentivo la stilista in particolare che insomma volevano comunque cercare un nuovo look and feel quello che loro chiamano il look and feel perché poi ogni fotografo specialmente di moda ha un suo gusto un suo taglio e quindi diversificare è importante anche questo chiaramente deve essere un fotografo affine con quelli che sono il look and feel della campagna ogni ogni chiaramente immaginate le campagne sono diciamo a base semestrale sostanzialmente autunno inverno primavera estate e di conseguenza hanno due caratteri e due personalità totalmente diverse quindi magari fai scattare lo shooting estivo da una persona perché sai che ha quel look and feel che stai cercando e magari per l'inverno un'altra poi abbiamo invece tutto quello che è lo shooting invece nel lightbox sostanzialmente lo shooting sul wire esattamente lo shooting soltanto del prodotto e lì abbiamo trovato un po' di difficoltà a trovare dei fotografi che sapessero perché noi abbiamo come appunto dicevo diverse collezioni fatte anche da diversi materiali il principale è l'alluminio riciclato che è un materiale molto particolare molto difficile da fotografare soprattutto quando devi fare uno scatto su bianco perché devi evitare tutti i riflessi tutte le cose insomma è qualcosa di abbastanza complicato io non pensavo che ci fosse dietro tutte le cose e loro hanno cercato diversi fotografi e puntualmente falliscono miseramente e quindi ci troviamo costretti poi a lavorare a livello di post produzione in maniera insomma anche perché voi immaginate che soprattutto dell'alluminio che è il core business quindi abbiamo tutte queste bigiotterie in alluminio riciclato che è tutto lavorato a mano fra fra l'altro e sono tipo 250 300 oggetti ogni anno nuovi che si aggiungono poi alle collezioni passate abbiamo diciamo 1500 pezzi sostanzialmente veramente i pezzi ormai passati sono ormai andati abbiamo già post prodotti e resistono ma quelli nuovi dobbiamo scattarli in maniera tale da non dover intervenire in maniera così drastica sulla post produzione che non è facile chiaro perché poi non è più ci metti in mano più aumentano i budget bla 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 eccetera esattamente devi perdere un sacco di tempo le risorse e dovrebbero fare altre sono costrette a fare questo diciamo è tutto una ira che è tutto il diagramma di ganta no che senza in troppo invece tu comunque noi ci conosciamo da un da una vita se ti occupavi di illustrazione lettering branding logo però sempre da freelance invece questo è diciamo una esperienza importante nella tua vita in cui sei entrato proprio a che diciamo a capo del settore creativo del business to consumer in un'azienda praticamente da dipenda fisso chiamiamolo così no sottocontratto sottocontratto che cosa cambia cambia nella tua percezione da un abituato a lavorare da freelance quindi con i tuoi tempi con le tue cose a dover stare in un'azienda pro certo cos'è che ti piace cioè quale poi tra l'altro tu comunque hai accettato questa cosa quindi immagino ti stimolano in qualche modo certo certo assolutamente ma guarda allora le mie aspettative inizialmente io avendo già lavorato in un'agenzia lavorato in diverse agenzie anche come fisso quindi già sapevo diciamo l'ambiente c'è da dire che questo è un ambiente un po diverso perché non è una normale agenzia diciamo c'è l'ufficio marketing in cui lavoro io ci sta il project manager ci sta una persona che si occupa diciamo di tutta la strategia dei social e poi noi lavoriamo accanto invece al reparto stile sostanzialmente che è formato da altre quattro persone in cui ci sta la stilista la sua assistente diciamo la seconda stilista e poi le due assistenti che invece lavorano sulla collezione proprio nel creare sia gli elementi di bigiotteria che tutta la collezione di accessori e di abbigliamento sono quattro persone straordinarie che lavorano sono delle macchine e quindi la cosa diversa che non mi era mai capitata quindi questa è stata una novità per me di lavorare accanto un ufficio stile e direttamente in cui poi le nostre mansioni si sovrappongono in qualche modo quindi ho imparato un sacco di cose legate comunque a sviluppare una collezione a quello che è il mood di una collezione cose che già sapevo in teoria è quello che è appunto la mood board come si lavora con una mood board era una cosa che sapevo diciamo avevo studiato in maniera accademica però non mi era mai capitato di lavorare così strettamente in un in un posto così insomma in cui si lavorava proprio nel campo della della moda chiaro in questo senso non mi era mai ovviamente in qualche modo il lavoro tuo essendo affiancato a quello dello stile no e poi c'è anche il negozio quindi fondamentalmente quando tu fai una cosa quella cosa si riversa quasi automaticamente esattamente una pianificazione nel senso esattamente parte di noi no magari c'è il cliente gli fa il logo il cliente accetta il logo ti paga se ti paga e poi ciao e se tu non è che consegni il logo e ciao cioè poi tu senti l'impatto di qualsiasi scelta nel fatturato nel certo e ne vedi il risultato sia in maniera positiva che in maniera negativa e lo stesso l'ufficio stile pochi giorni fa mi è capitato di ascoltare quando parlavano un pochino della parte di accessori e soprattutto negli accessori ci sono le sciarpe e parlavano insomma di e quindi c'era la lista di queste nuove venti sciarpe che avevano messo sul mercato e vari risultati c'era alla fine c'era il premio merda della sciarpa che mi ha venduto di meno e quindi che in realtà il loro lavoro poi sarebbe quello di cercare di evitare di capire quali erano gli errori in questa sciarpa perché non è piaciuta anche se molto spesso è un po' una lotteria nel loro aspetto diciamo da questo punto di vista è loro navigano ancora più alla cieca che noi noi in qualche modo abbiamo delle direttive delle guide che è quello della comunicazione che deve passare sostanzialmente non passa la comunicazione ha in qualche modo già fallito quindi quello diciamo il nostro parametro per loro è un po più nebulosa la questione sanno se quella sciarpa perché il motivo per cui realmente per cui non ha venduto il disegno e il tessuto cos'è stato cioè ma che magari una sciarpa ha venduto magari 3.000 pezzi e un'altra 25 certo e quella vince il premio il chiaro merda della della collezione capito primavera estate ti chiedi come mai cos'è successo da tutte le statistiche in italia perché chiaramente poi ci sono quelle del business to business e poi era bene quello che dicevi tu del fatto che si ripercuote un po su tutto si ripercuote sulla vendita appunto all'ingrosso sui negozi chiaramente sparse in tutta italia e poi sul negozio singolo pilota il negozio zero che abbiamo a roma quindi abbiamo diverse sfaccettature in più di social media il web quindi ci piovano addosso poi i dati di quello che facciamo ed è molto interessante poi analizzarli e capire quali sono stati infatti immagino che questa forse è la cosa più interessante no del lavorare in una realtà così perché hai la possibilità di migliorare costantemente il team no certo è la cosa più figa senti c'è nazario che dice sono io sono sempre io quello che fa le domande scomode ma ti volevo chiedere se hai dei bonus in base ai risultati no al momento no non sono stati previsti però so che è successo anche in passato non quando c'ero io che quando poi ci sono annate particolarmente buone distribuiscono a pioggia diciamo premi in questo senso in questo senso c'è da dire che i principali che prendono i bonus principali sono chiaramente i rappresentanti all'interno dell'azienda hanno in qualche modo un ruolo abbastanza importante ovviamente sono quelli che poi portano diciamo in casa gli introiti maggiori sostanzialmente è molto spesso infatti quello che i materiali che io creo servono anche a loro per riuscire a vendere meglio quindi abbiamo anche ci interfacciamo anche con con loro per tastare quello che è poi l'ambiente all'esterno della della dell'azienda sostanzialmente chiaro ok senti infatti proprio per tornare un po al cuore del discorso quindi art direction branding puoi un po raccontare come funziona questo questo quadro all'interno di un'azienda come questa cioè tu ti occupi della comunicazione art direction quindi tu interagisci con i vari settori puoi magari fare uno schemino raccontare come come si scambiano gli gli input come come ad esempio in questo istante che devi progettare la comunicazione per il franchising ci c'è qualche differenza di ragionamento verso la francia piuttosto che la spagna cioè come il il processo creativo capito guarda adesso in particolare oggi abbiamo lavorato sul trend color quello che viene chiamato il trend color che è più uno strumento business to business in particolare è denata questa esigenza proprio dagli agenti assieme alla stilista che hanno pensato un nuovo strumento per far vedere che tutti i prodotti vesto pazzo sono uniti da un unico filo sostanzialmente e nel business to business e questo è importante perché noi dobbiamo lavorare per prendere spazio all'interno dei negozio punti vendita è quello il nostro scopo e quindi lavoriamo la comunicazione serve proprio a quello ne riuscire a far comprendere al negoziante che la sua convenienza e prendere diciamo dedicare un intero angolo a vesto pazzo ancora di più perché abbiamo un filo unico che lega tutta una collezione e quindi una persona quando entra il tuo negozio e compra un gioiello trova anche la sciarpa e il vestito da poter abbinare perché tutto è pensato in questo senso e quindi abbiamo creato questo questa sorta di che è una sorta di brochure sì così si può chiamare e che serve proprio ad ad illustrare quello che è lo spirito di questa collezione mostrando i vari accostamenti quindi uno strumento che è stato fatto diciamo a tre mani con gli agenti con la stilista che mi diceva quali sono le cose che devo andare insieme e io poi che creavo sostanzialmente sviluppavo il progetto grafico che poi fisicamente era un oggetto appunto che i rappresentanti portano ai negozianti sostanzialmente o a futuri acquirenti in questo senso e quindi questo è per esempio quello che facciamo e quindi magari incominciamo chiaramente con un brief un debriefing della situazione per capire appunto le esigenze a cosa serve e da lì sviluppo poi il progetto insomma e chiaramente abbiamo fatto fare anche degli shooting apposta quindi lì è intervenuto ancora l'ufficio stile perché si occupa lui sempre degli degli scatti e abbiamo fatto fare degli scatti ad hoc delle composizioni sostanzialmente con tutti i prodotti questo pazzo questo è chiaro diciamo non so se abbastanza esauriente e invece la fase proprio di progettazione no quindi ce lo fai tradizionalmente come lo faresti per un cliente normale quindi sempre bozza su carta poi la mostri a chi c'è lo ti confronti con l'ufficio stile o sì sì guarda sostanzialmente difficilmente lavoriamo già su carta o almeno magari inizialmente una bozza così molto generica perché già partiamo con del materiale io spesso parto già con del materiale fotografico perché a quel punto intervengo io nel momento in cui io ho già una parte di mood in realtà i colori e tutto quella che è la tavolozza colore della collezione già ce l'ho prima gli scatti no sostanzialmente anche gli oggetti incomincio a vederli dopo un po' mentre l'ufficio stile già confidenza chiaramente con queste nuove creazioni noi in qualche modo siamo all'oscuro perché già stiamo ancora lavorando per quella vecchia sostanzialmente quando ne finisce una si incomincia a lavorare sulla nuove infatti noi adesso stiamo incominciando a lavorare per il per l'autunno inverno sostanzialmente fall winter ok quindi adesso state facendo autunno inverno esattamente quanto cominciate ad andare avanti c'è nel senso quando si comincia a pensare alla prima vera estate praticamente quando incomincia a chiudersi l'inverno praticamente gennaio febbraio gennaio già incominciamo a lavorare già hanno tirato fuori già una mezza collezione praticamente per la nuova stagione perché veramente immagina nel nel campo della moda è tutto sei mesi avanti ok sostanzialmente perché tu chiaramente vai a vendere l'estate quando è inverno e quando è inverno capito e quando è state vendi l'inverno sostanzialmente chiaro perché in realtà voi non lo vendete al pubblico ma al pubblico esattamente e adesso invece in particolare con il negozio e invece chiaramente noi lo progettiamo sempre prima in generale lo comunque lo devi progettare anche se il tuo negozio lo devi progettare sempre prima perché quando poi è arrivata la stagione la roba deve essere pronta sugli scaffali e tutta la comunicazione già sviluppata quindi già finito quando la vedi nei negozi il lavoro è già finito sostanzialmente chiaro chiaro perché voi vi preparate la collezione precedentemente esattamente eventuali buyer no per eventuali altre esattamente esattamente senti c'è un natario che prima ti ha chiesto quella cosa dei premi dice ecco questa cosa questa è una cosa che non riesco proprio a capire la gente vende soprattutto grazie al lavoro del art director e alla fine la gente ha il bonus e l'art director no e vabbè devo riconoscere che il loro è un lavoro delicato riconosco questo nel senso che anche lì hai bisogno di tante skills e tante esigenze e poi lì ci stanno venditori buoni diciamo commerciali buoni e commerciali meno buoni come ci sono grafici e comunicatori buoni e meno buoni discreti mediocri insomma è vario vero vero poi comunque il campo commerciale magari si basa su altri equilibri no magari il fisso può essere più basso esattamente loro non hanno esattamente loro prendono una percentuale su quello che vendono comunque sono dei piccoli imprenditori in qualche modo di loro stessi dei freelance ecco se se così vogliamo dirla in qualche modo rischiano di più di me sicuramente in questo senso poi il lavoro è il lavoro sempre quindi senti invece quando sei entrato quando sei entrato proprio in vesto pazzo quindi ti sei trovato di fronte fondamentalmente una tavola tavola vuota no perché dovevi rifare la comunicazione di business to consumer come quali sono state le prime cose che che hai affrontato guarda io devo essere sincero che fortunatamente la prima formazione che ho avuto quando iniziato a fare il grafico è stato proprio un'agenzia che forse tu ricordi segni di segni sì in cui era una un'agenzia che si occupava principalmente di corporate design brand image c'era proprio di questo avete fatto il logo della banca di roma no sino della banca d'italia curavano l'immagine hanno fatto restyling del loro logo era proprio una piccola agenzia artigianale in cui c'era questo grande maestro lorenzo casella che credo e poi praticamente mi prese a lavorare con lui e per me fu proprio una cosa insomma il massimo della goduria che uno poteva avere e lì ho imparato molto quindi sapevo esattamente cosa dovevo fare da questo punto di vista non era un'esperienza nuova per me e è stato un problema all'inizio riuscire a far capire soprattutto ai dirigenti che sono due principali qual era la strategia che pagava perché loro avevano praticamente all'inizio con il fatto di business to business si erano spezzettati in mille loghetti di mille collezioni mille pezzetti molto spesso il logo questo pazzo neanche appariva apparivano come alluminium che era invece il nome di una collezione tutti li conoscevano come alluminium quindi insomma lì ho dovuto lavorare un pochino soprattutto per far capire persone che chiaramente non avevano competenze su questo ho dovuto riuscire a in qualche modo a formarli per fargli comprendere quelle che erano le strategie i motivi per cui dovevamo fare questo e gli ho portato vari esempi e loro come erano erano un cliente ricettitivo da questo punto di vista nel senso erano coscienti del fatto che serve questa roba o era il classico cliente no che diceva vabbè ma no 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 fortunatamente abbiamo i due proprietari i due dirigenti che sono un uomo e una donna che si conoscono proprio anche loro da un po come noi da ragazzini che hanno creato questa questa azienda da 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 nulla inizialmente e allora insomma è penso sia una cosa abbastanza complicata però insomma il fatto della già mi sono scordato quello che stavo dicendo scusatemi aiutano tranquillo tranquillo il lunedì è tosto per tutti dicendo se l'azienda è stata ricettitiva fin dall'inizio allora loro loro sono molto aperti da questo punto di vista e più di una volta hanno detto che l'azienda ormai non sono più loro due ma sono tutte le persone che ci lavorano dentro ormai vesto pazzo non sono più loro cioè riconoscono che quello che è diventato è diventato grazie a tutte le persone che sono lì dentro e questo è una cosa molto importante secondo me di riconoscere il genere in Italia assolutamente assolutamente è una cosa molto importante quindi è buono un luogo di lavoro che sono stato molto contento anche perché poi con l'ufficio stile sono riuscito a fare anche altre cose che il mio paura più grande era quella di finire in una scatola chiusa invece devo dire che ho cominciato a lavorare anche con l'ufficio stile magari con piccole bozze con io perché appunto ho la passione per il lettering e la calligrafia e lì hanno una collezione di borse vintage che è tutta fatta da queste cose diciamo con scritte scrittine cose un po' così un po' old un po' hipster e quindi mi sono messo a fare diverse bozze per loro e poi sono state realizzate con le borse ah che figo bella quindi a me queste cose non erano mai successe prima tra l'altro io ricordo a tutti quelli che vengono al Creative Pro Show che tu hai fatto le magliettine di un'edizione fa hai fatto le scritte sulle magliette sul retro che erano fighissime ancora oggi sì sì è una passione che abbiamo sempre avuto questa anche Martin aspettando a proposito a proposito fammi aprire faccio vedere un po' ai ragazzi quello che uno dei tuoi ultimi progetti eccolo qua condivido lo schermo con loro ok ditemi in chat se vedete se vedete la condivisione mi sembra che devi fare il zoom out forse un po' di zoom out sì un secondino sì ok aspetta allargo un po' lo schermo in genere eccolo ok dit 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 tu lo vedi Gianca schermo sì sì io lo vedo questo qui è un lavoro che ho fatto da poco tramite un contatto che lavora spesso con i locali molto in di Roma e questo è il Toy Roof un nuovo locale che stanno aprendo a via nazionale e apparentemente cercavano di fare un menù un po' diverso volevano rappresentare i drink con delle illustrazioni sostanzialmente non avevano un'idea ben precisa però volevano appunto creare un'illustrazione rappresentare il cocktail facendo vedere gli ingredienti con un'illustrazione e quindi io sono venuto in mente con una cosa di questo genere mi è venuto in mente quindi di rappresentare veramente il bicchiere il contenitore in maniera molto stilizzata e poi l'interno praticamente creare le quantità che sono abbastanza fedeli con poi la le quantità in percentuale sostanzialmente anche gli spazi sono stati studiati un minimo per rappresentare più o meno gli ingredienti di ogni singolo cocktail bellissimo veramente bello questo tra l'altro è il progetto che mi facesti vedere a Roma no? la scorsa volta sì esattamente toy secret sugar bitter sì questi casi sono vari tra l'altro questo è un locale abbastanza cioè sono cocktail tipo da 16-20 euro è un locale molto in infatti se vedi sono tutti cocktail un po' particolari sì qua quanta idea quanta libertà creativa avevi? tutto praticamente perché loro non sapevano esattamente io gli ho fatto una bozza ma così proprio su un pezzetto di carta più o meno di una cosa di questo genere che vedete però chiaramente senza colori senza niente ma proprio stilizzata una cosa proprio semplicissima allora ho detto sì sì ci piace ci piace da lì quindi sono partito poi una cosa che mi piace fare Martin insomma abbiamo sempre disegnato lettering per via dei graffiti queste cose quindi è una cosa che mi è sempre piaciuto fare beh tu vabbè io ho iniziato però poi tu sei andato avanti ma voi eravate tra i primi insomma a Roma a fare i pezzi sui muri no? ancora oggi sì vabbè erano gli anni 90 quindi c'erano veramente poche persone che lo facevano e soprattutto non era visto come oggi il fenomeno del writing che adesso insomma anche le pubblicità delle automobili vedi che dietro c'hanno il graffito una volta non era molto tollerato no no una volta ci sparavano esatto sparavano a sale come i contadini quindi insomma però insomma mi è sempre rimasta la passione e devo dire che è una cosa che invece mi è servita molto nel tempo quando ho iniziato a farla da ragazzina a 14 anni mai avrei pensato che poi è una cosa che mi sarebbe servita così tanto nel lavoro sì bellissimo ok aspetta ritorno un attimo qua no guarda devo dire ah guarda questo è un argomento interessante il writing come ci ha influenzato no? alla fine comunque tu a differenza mia vabbè io ho fatto il liceo scientifico perché poi si pensava che aveva preso la strada del design dell'architettura e così via tu invece hai fatto proprio una scuola di sì il Federico Cesi il tecnico per la grafica e la pubblicità all'epoca che ora so che è diventata una scuola d'arte anche il Federico Cesi ma alla volta era proprio una scuola di formazione per grafici ma quando non c'era ancora chiaramente tutto l'avvento del digitale quindi abbiamo imparato le kine, gli acquarelli esatto le tempere si imparavano i rough, gli sketch e poi tu dopo tanto tempo che hai passato comunque nella comunicazione più tradizionale poi ti sei cimentato un po' anche con il motion ma l'hai lasciato perdere e all'improvviso sei serrato sulle lettering io mi ricordo che hai investito una cifra dei soldi in pennelli, pennelline hai visto che anni che andavamo pure insieme a Roma sì, sì nei negozi sì, è una cosa un po' costosa però insomma è una come hai influenzato questo capitolo della tua vita poi tutto quello che stai facendo oggi? beh, molto molto, devo essere sincero perché poi finché comunque io la grafica ho sempre avuto questa passione sempre il pallino del mio sogno di diventare appunto un grafico cioè quando poi vai nella scuola pubblica ovviamente immagina che non è poi tutto rosa e fiori ovviamente quindi un po' ero un po' disilluso alla fine devo dire che l'avere iniziato a fare i graffiti verso i 16, 15, 16 anni è una cosa che invece mi è servita molto a continuare a credere nel mio sogno in qualche modo che veramente quello che potevo fare era questo di riuscire a campare con queste cose quindi sì, mi ha influenzato molto e poi anche a livello tecnico perché quando poi una cosa ti è imposta come a scuola dovevi fare i raff, gli sketch dove poi noi lavoravamo con i trasferelli dovevi fare le tavole degli acquarelli insomma era tutto un lavorio molto artigianale da bottega come era una volta il mestiere del grafico c'è da dire che una volta c'era una barriera tecnica molto forte ovviamente adesso con il digitale questa barriera chiaramente si è battuta e quindi anche talenti che magari non venivano fuori per questioni tecniche questioni proprio di capacità tecniche di sapere usare il pennino per riuscire a fare i raff, usare i pantoni insomma era tutta una cosa i pantoni erano pennarelli, non la mazzetta pantone la mazzetta pantone veniva dopo i pennarelli erano quelli che cercavano di rappresentare il più vicino possibile il colore poi in tipografia questo era come una volta già c'è un paio di domande per te una Nazario chiede quanti siete in agenzia e se puoi accennare all'organizzazione dell'agenzia sì, allora guarda, nell'ufficio marketing siamo quattro ci sono io che diciamo mi occupo grafica, art direction sostanzialmente e ogni tanto prendiamo dei grafici freelance quando dobbiamo fare i cataloghi degli impaginatori sostanzialmente perché i cataloghi sono centinaia di pagine schiavi esattamente, sì, proprio delle macchine sono poi abbiamo il project manager che organizza l'ufficio sostanzialmente che si occupa, è comunque il project manager con grandi competenze legate al fashion e alla moda e abbiamo tutta una persona che si occupa dell'e-commerce che è un altro lato del nostro ufficio infatti ci occupiamo anche di tutta la comunicazione web e comunicazione social comunicazione social attualmente c'è un'agenzia a cui ci stiamo appoggiando per questi mesi soltanto come rodaggio dei social più importanti quali Instagram, Facebook sostanzialmente però poi è una cosa che verrà assorbita all'interno del nostro ufficio con altre risorse ovviamente e poi abbiamo una persona che si occupa di social media e che scrive per noi all'interno del nostro ufficio che viene tre volte a settimana diciamo social media strategy in sede poi nell'altro ufficio che è quello stile ci stanno due stilisti diciamo la stilista capo e la seconda stilista che molto spesso non stanno neanche in quell'ufficio ma sono spesso a Bali sono in Madagascar insomma girano esattamente, sì loro vanno lì è un lavoro tosto infatti c'è il capo stilista è una pazza è proprio fuori di testa ma non puoi non esserlo se no non potresti fare un lavoro del genere ha una carica una forza incredibile sì sì è un po' veramente un mestiere tosto quello e poi ci sono due assistenti di cui uno ogni tanto viaggia con loro e l'altro resta sempre in sede che insomma fanno tutto il resto fanno andare avanti tutto quell'ufficio non so come fanno ma riescono e invece i fotografi li chiamate? i fotografi sono tutti esterni sì sì sia i fotografi di posa sostanzialmente quelli per fare tutti gli shooting agli oggetti still life e poi abbiamo tutto invece i fotografi che si trovano della campagna ma lì si mette una macchina insomma ci sono almeno 10-15 persone che vanno a fare lo shooting perché ci stanno chiaramente dalla parrucchiera alla truccatrice ci stanno il fotografo con uno barra due assistenti ci stanno due ragazzi di fatica perché spesso poi i shooting non è che li fai magari in una casa li fai noi effettivamente abbiamo fatto lo shooting in un bosco e anche lì c'è tutta la pre-organizzazione che devi chiedere il permesso non puoi fare uno shooting in un bosco così devi chiedere i permessi devi andare insomma è un lavoro c'è dietro un lavoro quando poi c'è una campagna ovviamente assolutamente no è chiaro è chiaro senti un'altra domanda Antonello chiede una cosa secondo me molto interessante soprattutto in questo momento storico nel quale tutti si danno dei titoli che magari non gli competono neanche soprattutto sul web lui dice Giancarlo che cosa ne pensi del fatto che ad oggi il nome art director e creative director vengono usati in modo inappropriato e cosa consiglieresti per abbattere questa sorta di concorrenza a livello testuale fondamentalmente ci sono delle persone che per darsi un po' di aria scrivono che sono un creative director e magari non si rendono conto che esiste una differenza tra art director e creative director tu come la vedi non te ne frega un caso no vedi queste cose non cioè nel senso io poi appunto nel fatto dell'art director è più stato un titolo di studio il mio perché quando sono uscito dal master in comunicazione visiva uscivi con il titolo di art junior sostanzialmente che è quello riconosciuto dalla regione Lazio fra l'altro quindi è anche un titolo di valore italiano sostanzialmente però è solo un titolo nel senso non anche lì poi per esempio io sono entrato a conoscenza anche di altre figure soprattutto lavorando nei negozi c'è la figura del visual che è quello che si occupa sostanzialmente dello sviluppo una sorta di architetto degli interni e di diciamo la sua schizze principale è quello di riuscire a organizzare un negozio in maniera tale che venda il più possibile e che la merce si veda il più possibile dal che va da come è organizzato uno store alle vetrine era una figura che adesso si chiama digital una volta magari era appunto architetto di interni per punto vendita ci sono sempre state queste figure non so secondo me sono solo titoli poi si immagino ci sia dietro invece chi pensa diversamente sicuramente io sono d'accordo con te penso che oggi come oggi anche le grosse agenzie come la Saci la Leo non hanno più quel ruolo oggi appena entri là dentro è probabile che ti becchi il titolo di art però poi alla fine non fai l'art fai un po' tutto la distinzione di una volta che c'era l'art il copy e quello e quell'altro sta decadendo un pochetto siamo tutti più flessibili più ma sì ma perché secondo me è il mercato che lo richiede in qualche modo quindi nel senso io quando ho iniziato appunto alle superiori ad andare in questo istituto tecnico per la grafica e la pubblicità ci rappresentavano l'agenzia di grafica con quattro figure principali che erano le figure dell'agenzia grafica che erano l'art director il copywriter l'account e il grafico il visual sostanzialmente erano queste qua alle figure adesso invece è un po' diverso nel senso non c'è più l'agenzia di una volta anche i mezzi su cui viaggiano le comunicazioni non sono più quelli di una volta quindi sono nate mille figure con mille nomi diversi però secondo me i sistemi di comunicazione di persuasione sono rimasti sostanzialmente gli stessi continuiamo a restare degli animali stupidi quindi continuiamo a accedere con gli stessi diciamo tranelli e inganni della comunicazione nel senso qua mi lanci proprio mi lanci la cosa e mi attacco a questa domanda che ti volevo fare ed è abbiamo parlato come progetti le cose rispetto al tuo team all'interno sì come invece prendi in considerazione i dati relativi alle persone che acquistano poi da vesto pazzo nel senso quando progetti un logo una comunicazione di quelle che fai tu come analizzi queste cose per poi poterle trasportare su carta c'è qualcosa sì praticamente questi dati mi vengono forniti appunto dal project manager e li analizziamo insieme capiamo quali sono le strategie noi abbiamo attualmente un target di riferimento sostanzialmente che una donna diciamo di ceto sociale medio medio basso sostanzialmente tra i 35 e i 50 anni è un target molto ampio rispetto a magari altri tipi di di brand ma noi abbiamo diverse collezioni che abbracciano un pochino diciamo un target molto più ampio rispetto magari a che può essere un subdued non so se qualcuno lo conosce che è un nostro concorrente semidiretto è principalmente un target estremamente giovane dai 16 ai 25 anni e anche il tipo di comunicazione è tutto su quello noi abbiamo invece una comunicazione un po' più generica in qualche modo molto più romantica molto più dolce da questo punto di vista per diciamo non per una ragazzina sostanzialmente spesso poi abbiamo un sacco di discussioni all'interno dell'ufficio perché molto spesso le donne del team si identificano troppo troppo spesso con il target e quindi preferiscono di fare qualcosa che piace a loro ma certo non è quello il nostro target la donna che compra i nostri prodotti non sono loro sono donne fin troppo sofisticate per il tipo di target che abbiamo noi quindi anche il tipo di comunicazione mantiene un certo standard poi nel caso invece abbiamo delle collezioni particolari che sono mirate invece a un appeal totalmente diverso lì facciamo delle tendenze ad esempio c'era una collezione La Micro che aveva questa anima rock e veniva fuori quindi con una comunicazione totalmente diversa che non era quella diciamo il classico vestopazzo il brand vestopazzo che era molto più molto più romantica gipsy un po' bohemian questo diciamo è la personalità un po' giramondo la personalità vestopazzo mentre la personalità di alcune collezioni tipo la Micro era invece un'altra cosa insomma un po' più hard un po' più rock quindi anche lì facciamo una comunicazione diversa in questo senso facciamo degli scatti diversi e anche ovviamente dei materiali grafici diversi con un altro appeal quindi ovviamente queste informazioni te le dà il reparto di marketing che poi tu elabori ti viene dato dal reparto commerciale ovviamente che elabora queste statistiche ma in più fanno fare anche delle indagini di mercato le abbiamo fatte fare anche nel nostro negozio noi abbiamo diversi dati in negozio serve anche a quello a loro proprio per avere dei dati visto che hanno sempre dati in qualche modo passati da terzi dai loro negozi che vendono la loro cioè dai negozianti che vendono la loro roba che hanno già acquistato ovviamente per conto terzi quindi non non hanno realmente un confronto diretto invece con questo negozio hanno un confronto diretto con quei dati chiaro 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 ottimo questa cosa che hai detto secondo me è importantissima perché soprattutto molti grafici che iniziano adesso quando si mettono a fare il logo sì anche se mettono in piedi delle strategie comunque si dimenticano di pensare al target no? cioè di capire allora se io faccio il logo per un ristorante piuttosto che per un pub capire bene bene qual è il target che non vuol dire solo che gli piace la musica rock ma anche quanti anni hanno no? no assolutamente io questa cosa quando ho insegnato per il breve periodo in cui ho insegnato questa cosa veniva spesso fuori e spesso con studenti che avevano già in qualche modo un minimo di formazione in ambito di grafica sapevano comunque smanettare e quindi e mi ricordo che c'era questo ragazzo anche bravo nel senso aveva anche un certo talento ma che faceva tutto con lo stesso identico stile qualsiasi cosa dall'insegna appunto per un ristorante di pesce a che ne so a il logo di un brand di moda tutto con lo stesso stile che va adesso molto hipster un po' ruffianello e io mi rendo cioè cerchiamo di spiegargli guarda che questo tipo di cosa magari ti va bene subito perché la gente cerca questo tipo di grafica ruffiana adesso ma è qualcosa che in brevissimo tempo risulterà già obsoleta perché queste mode cambiano drasticamente io ho fatto l'esempio per esempio della comunicazione della Macintosh soprattutto delle interfacce grafiche se tu ci fai caso lo stile grafico è dettato da in parte anche uno delle principali fonti di ispirazione della grafica mondiale secondo me è anche l'interfaccia del desktop della Macintosh io di quando c'erano tutte quelle icone glossi c'è alzato il periodo del glossi adesso tutto piatto con quella grafichina tutta piatta con l'ombrettina e sono tutte cose che vengono dagli iPhone e a un certo punto poi si sviluppano e tutti cominciano a usare quello stile fanno tutto quel tipo di grafica secondo me è un po' sbagliato perché lascia un po' il tempo che trova devi appunto cercare di capire anzitutto quali sono le esigenze del tuo cliente e capire quali sono gli strumenti più adatti soprattutto a chi riceve quel messaggio dalla piccola insegna a poi il manuale di immagine coordinata di una grande azienda secondo me è oro è vero è più duraturo la tua comunicazione non avrà vita breve perché non è basata su cose estemporanee contingenti con le mode del momento ma in base a un processo a una progettazione ben ragionata e ben pensata con delle giustificazioni ben precise è vero è vero moltissimi adesso tendono a farsi il logo tipo appunto come abbiamo detto questo stile un po' hipster quando in realtà è la comunicazione che magari dovrebbe essere in stile hipster ma il logo essere come hai detto tu universalmente valido un pochino in qualsiasi poi il brand in particolare certo il brand in particolare è un'aspettativa di vita molto lunga uno spera insomma che l'azienda per cui fa il brand campi e campi bene è interesse del grafico nel senso che questa azienda sviluppi e diventi qualcosa anche che magari verrà richiamato per altri lavori e altre cose insomma secondo me è fondamentale questo approccio senti c'è Giuseppe che chiede ritornando alla tua posizione in vesto pazzo quindi solitamente dividete la comunicazione in pacchetti cioè tipo quattro pacchetti di mood diversi su collezioni per esempio sì esattamente esattamente no scusami se no perdonami non sei da un'ultima parte quattro pacchetti di mood diversi su collezioni però voi fate due collezioni all'anno sì esatto quindi dividete le comunicazioni in pacchetti tipo sì dunque per esempio quest'anno è capitato che i colori mood dividessero poi in quattro le collezioni invernali sostanzialmente questo vi parlo della collezione abbigliamento tessile sì e sono in base ai colori sostanzialmente di questa collezione che sono quattro sono un verde bosco un rosa cipria sostanzialmente tutti i colori molto desaturati che richiamano quel tipo di atmosfere da bosco inizialmente sì per esempio abbiamo sviluppato in realtà la comunicazione è unica sostanzialmente però per il thread color abbiamo spiegato ognuna di queste quattro collezioni quindi abbiamo fatto una sorta di introduzione in cui spiegavamo la mood board e le spiegazioni da cui sono venute dopo di che facciamo vedere la collezione e i vari abbinamenti con per esempio gli accessori e i gioielli la nuova bigiotteria sempre fatta in linea in questo senso quindi sì nel senso l'abbiamo divisa in pacchetti per modo di dire però la comunicazione era comunque globale della collezione invernale ha un'unica personalità che è sempre la stessa poi ovviamente varia nei colori e nelle forme ma infatti una cosa importante è la coerenza in questo senso che è fondamentale per la collezione se non riesci proprio a creare qualcosa di univoco soprattutto da essere venduto e percepito come qualcosa di univoco certo e senti e invece questo diciamo questa progettazione nella comunicazione come la stai affrontando rispetto invece al franchising che invece il franchising comunicherà non ai clienti ma a chi si vuole aprire esattamente esattamente lì avremo diverse comunicazioni diciamo su tre livelli si può dire abbiamo le prime due business to business se sarà la prima quella di presentazione di questo progetto quindi dovremo creare dei materiali cartacei e non per poter presentare questo progetto di franchising a vari negozianti che possono essere interessati a cambiare oppure ad aprire un nuovo negozio in questo senso e a puntare su questo pazzo con il franchising da lì poi dovremo creare tutta una parte di comunicazione su come va gestito il negozio perché il franchising ovviamente noi dobbiamo fare del materiale in cui ti diciamo come va allestito il negozio quindi devi disporre la merce tutto quanto che è quello diciamo che sono i trend report per esempio la mia ragazza lavorava per una grossa azienda di abbigliamento American Appeal e più di una volta io ho visto il trend report che arrivava a stagione in cui dall'America da Los Angeles arrivava questo trend report in cui gli spiegavano la nuova collezione come andava presentata come dovevano essere le vetrine diciamo c'erano tutte delle linee guida sostanzialmente di questa collezione e questo insomma è da ok e invece il tipo di comunicazione cioè deve essere anche lì un tipo di comunicazione persuasiva nel senso che comunque è nel vostro interesse che loro aprano la prima fase sì la prima fase assolutamente sarà tutta una parte studiata sia a livello di copywriting che a livello di chiaramente di grafica per attirare il cliente nel senso per fargli capire che questo è un progetto su cui deve puntare anche perché i primi investimenti si parla di almeno 100.000 euro come primi investimenti da parte di chi acquista il franchising da noi perché chiaramente dovrà essere rifatto il locale dovrà essere arredato il locale secondo questi standard quindi anche lì siamo già intervenuti in questo senso una parte interessante è anche tutta la parte di packaging e poi c'è tutta invece la terza e ultima fase che è quella di comunicazione che noi comunque facciamo per i negozianti che chiaramente faremo anche per il franchising ma più o meno quella sarà la stessa i cartelli di vetrina tutti gli elementi per il punto vendita saranno gli stessi poi varranno anche per il franchising ovviamente ok senti e invece la parte in cui state progettando la comunicazione per la Francia e la Spagna sì immagino che ti debba sentire addosso parecchia responsabilità su questa cosa come stai affrontando questa cosa come come fai ricerca per capire come comunicare al meglio in un paese guarda da questo punto di vista per quanto riguarda la Francia e la Spagna non abbiamo diversificato a livello grafico sostanzialmente perché il gusto è comunque il gusto europeo non abbiamo ritenuto necessario e anche gli agenti francesi che sono venuti e quelli spagnoli che sono venuti hanno detto che il materiale è perfetto così com'è abbiamo creato dei materiali ad hoc per esempio per il mercato spagnolo per il corte inglese che è questa catena non so se qualcuno la conosce che è tipo la rinascente è anche abbastanza prestigiosa in Spagna insomma è una catena dove ci sono all'interno grandi brand grandi nomi e inizialmente cominceremo con un piccolo spazio all'interno di tutti i corti inglese diciamo nelle principali città poi se andremo anche nelle province con una piccola presentazione della nostra bigiotteria inizialmente sicuramente partiremo con l'alluminio che è la nostra testa di ponte sostanzialmente è quello che ci fa da per strada sempre qui è una curiosità mia personale come funziona non so se lo sai perché penso che non fa parte delle tue mansioni però come funziona la presentazione da parte di un brand al negoziante cioè immagina che io ho una linea di magliette e voglio venderla alla rinascente sì come ci si muove? eh credo che lì il circuito beh la rinascente in particolare tanti negozi fanno anche credo si chiami contro vendita nel senso che tu gliele lasci quello che vende loro si prendono una parte e ti danno i ricavati sostanzialmente soprattutto nei posti di mare per quanto riguarda se uno vuole magari provare questa cosa delle magliette secondo me quella forse è la strada più veloce e immediata per vedere se le cose funzionano però insomma per il resto in questo caso però immagino che ci siano proprio delle trattative un po' più sì anche perché appunto il corte inglese sono brand come anche per la rinascente non è che prendono tutti i brand ovviamente per esempio noi abbiamo avuto a che fare anche con Porta di Roma perché volevano aprire anche lì ma è una cosa assurda sostanzialmente ci sono due tre principali aziende che comandano all'interno di Porta di Roma che sono Auchan e Leua Merlène e Ikea sostanzialmente e decidono loro chi apre e chi non apre chiaramente tutta roba che non deve andare a intaccare il loro business sostanzialmente quindi lì poi nei centri commerciali ancora peggio ci sono dinamiche ancora diverse ancora più più distruttive lì è proprio il capitalismo allo stato puro quindi è è tosta in quel senso però per quanto riguarda insomma il franchising è particolare appunto entrare all'interno sicuramente loro hanno dodici anni tredici anni di esperienza business to business è un brand ormai business to business è molto conosciuto in Italia loro abbiamo calcolato che praticamente dalle vendite proprio milioni di pezzi una donna su cinque in Italia dovrebbe avere un gioiello vestopazzo per la quantità di pezzi che vendiamo poi ovviamente ci sarà la donna che avrà 300 gioiello vestopazzo è quella che non ce n'è manco uno però nel senso quello è la media di quantità di milioni di pezzi che vendiamo poi è bigiotteria insomma di medio medio basso valore però è abbastanza rifinita sempre lavorata a mano insomma se vi capite poi andate a vedere anche il sito noi siamo molto orgogliosi insomma di quello che facciamo no no guarda già qualcuno è andato a vedere il sito io non ti ho fatto la domanda ma era se Giancarlo ci vuoi passare il numero di telefono delle modelle insomma eh ogni tanto le vediamo quando fanno gli shooting all'interno ogni tanto passano è tosta alcune sono alcune no le vedi guarda la maggior parte delle modelle non sono mai come sembrano in foto non sono mai ma alcune invece sono molto graziose senti a me ritornando un po al discorso prima del target mi ha colpito anche nella mia esperienza come a volte si deve mettere da parte il proprio desiderio barra gusto personale per quello che piace a noi a favore di quello che piace al target no? mi sembra ovvio nel senso quando io è ovvio però e qui mi collego a questa cosa c'è molto spesso che ne so la gente soprattutto gli addetti ai lavori alle prime armi giudicano un progetto seguendo il loro gusto soggettivo non conoscendo però chi è il target no? quindi possono dire ma questa cosa fa cagare però magari è in target vero? questa cosa esattamente nel senso io ho detto sempre la stessa cosa nel senso io sempre il mio grande maestro Lorenzo Casella il primo giorno di Master in comunicazione visiva la prima sua lezione lui ci disse secondo voi qual è la differenza tra un artista e un professionista? e siamo stati una bella mezzoretta ognuno se ne usciva fuori con qualcosa ma sostanzialmente è proprio nella comunicazione e in quelle che sono gli immaginari collettivi della comunicazione mi spiego meglio nel senso un artista crea nuove forme di comunicazione che non si conoscono nuovi metodi per comunicare ecco perché l'arte viene sempre capita a posteriori perché perché deve essere metabolizzata un nuovo linguaggio che va metabolizzato non viene compreso un professionista della comunicazione non può fare a meno di utilizzare canali già rodati perché il suo scopo è quello che la comunicazione deve arrivare quello è la cosa se non arriva la comunicazione purtroppo c'è stato un errore in questo perché il nostro scopo è comunicare comunicare un artista e creare nuove forme di un artista in genere che può essere qualsiasi cosa dalla scrittura all'arte in senso lato proprio quindi hanno due compiti diversi e in questo secondo me la grafica e i grafici peccano spesso in questo anche forse per inclinazioni delle età personali in questo senso che per carità sono sane e vanno coltivate però in ambito secondo me comunicativo vanno abbandonate in questo senso e va privilegiato soprattutto un approccio tecnico non freddo nel senso tecnico qualcosa di staccato ma va capito e risolto un problema perché se qualcuno viene da voi evidentemente ha un problema che va risolto e di conseguenza il vostro scopo è quello di risolvere quel problema mettendo in campo le armi migliori che avete in questo senso e le vostre skills non necessariamente vuol dire fare una cosa che piace a noi ma fare una cosa appunto che piace al che funzioni secondo me al di là di piacere secondo me non è il termine più adatto da utilizzare in questo senso se qualcosa funziona o non funziona perché al di là di tutto una cosa funziona e appunto è la funzionalità la cosa principale della comunicazione poi viene tutto l'appeal estetico ma quello ti serve per indirizzarlo al tuo target esatto in questo senso io mi ricordo sai che da ragazzini facevamo noi dj e io stavo in fissa con il rap ma la zona in cui abitavamo noi piacevano tutti la tec non la gabber non era un pezzista e gli mettevo un pezzo di di tupac me si svuotava la sala esatto esatto e quindi è un po' anche questo non sempre si può fare quello che ci piace come non potevo mettere il pezzo di tupac ma toccava mettere il lavoro che ho fatto prima che invece è qualcosa che mi è piaciuto molto quello per esempio del menù con i bicchieri con tutte le illustrazioni sono solamente in due o tre giorni l'ho fatto sostanzialmente ed ero contentissimo insomma per me è stato come disegnare quando disegno a casa perché ho la passione per il disegno quindi però insomma capita veramente insomma è abbastanza raro che succede ma anche lì alla fine è capitato non perché per la mia velletà perché evidentemente era quello che funzionava per una volta è coinciso quello che funzionava con quello che mi piaceva solitamente non funziona sempre così però insomma è il nostro lavoro mi stanno dicendo in chat è con lui che facevi il dj dico no tu facevi break all'epoca sì io ogni tanto andavo a trovarli andavo quando facevano i dj noi mettevamo musica e tu andavi a fare break che tra l'altro te ballavi con un tipo che mi sfugge sempre il nome che era tipo il numero uno in Italia Crash Kid Massimo Colonna che poverino è scomparso da giovane purtroppo era era conosciuto in tutta Europa era uno dei più forti breakers che giravano in Europa sì vabbè una volta era tutto un altro ambiente eravamo tipo trenta persone penso a Roma che praticavano questa cosa eravamo dei pazzi che ci menavano per strada esattamente senti Giancarlo io ti ringrazio tantissimo per aver dedicato questo rete a noi a condividere la tua infinita esperienza mi ha fatto molto piacere stiamo in quest'ambiente da quanto da dici a sette anni professionalmente dal 2001 ho iniziato a lavorare e poi comunque è una passione che va avanti da sempre quindi è una vita dedicata alla passione se si può dire sì siamo stati fortunati in questo di aver visto sin da ragazzini quello che veramente ci piaceva fare su questo mi ritengo molto fortunato e anche tu insomma penso di dire che anche tu ti ritieni fortunato perché mi capito di beccare tante persone che insomma non sanno ancora cosa vogliono fare l'ultima domanda per te è questa una cosa che affronto molto ultimamente penso che oggi su internet c'è di tutto e questa quantità enorme di informazioni fa sì che è più difficile da un parto da una parte trovare informazioni di qualità dall'altra ci crea un po' questo alibi di procrastinazione quando abbiamo iniziato invece noi non c'era proprio niente crescevi in un quartiere dove bene o male se ti menavano un giorno sì un giorno no andava bene era buono esatto e quindi avevi questa tra virgolette questa fame per citare Steve di farcela no? di riuscire a comunicare di riuscire a uscire a fare quello che volevi sì 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 me lo ricordo quando andavamo a Footlooker al centro a Roma a comprarci le fanzine perché era l'unico posto dove vendevano le fanzine dei graffiti non si trovavano in edicola da nessuna parte si andava con l'autobus fino al centro per andare a comprare la fanzine era una cosa che chiaramente non insomma c'è Giuseppe che ti chiede domanda off topic che power move con che power move chiudevi quando facevi la break io come power move mi piaceva molto vabbè il windmill era una cosa che non mi riusciva la facevo un po' sforbiciato lo swipe mi usciva più che discreto infatti lo sfruttavo sempre mai riuscito a fare il Thomason mai veramente difficile ma insomma guarda me io ballavo più che altro di stile mi piaceva molto il freestyle l'up rock mi piaceva molto il locking insomma più che altro a terra ci ballavo non troppo diciamo schiena a terra la ricordi quella volta è che stavamo a Praga che la sera nell'appartamento ti sei messo a fare mi sono messo a fare esatto no anzi quella sera no quella sera è un'altra cosa ti sei messo a fare la sera mi ricordo io mi sono addormentato che ero morto e ti sei messo a fare gli sketch sketchettare sketchettare tutta la sera eravamo anche un po' oticci mi è presa l'ispirazione mi ricordo non ho dormito quella notte e lì mi ricordo che fu forse la prima volta che notai questa tua grande inclinazione verso il lettering e così perché stavamo a Praga e già si cominciavano a intravedere i primi pezzi i primi tag e tu ogni volta che passava un tram a metro così mi indicavi le lettere per dirmi guarda quella L che stilosa guarda quella A che c'erano un gruppo che si chiamava i Hot Boys se non sbaglio no erano no no gli Hot Boys sono i VHS We Have The System che era We Have The System era l'acronimo per We Have The System che erano molto bravi io me lo ricordo e poi li avevamo anche beccati erano dei ragazzetti avranno avuto 16 17 anni ed erano uno dei pochi gruppi che riusciva a farsi la metro a Praga esatto in anni che insomma era appena il disgelo era successo da poco da una manciata di anni quindi non erano anni facili ancora a Praga esatto esatto e quindi ho notato questa tua inclinazione quindi secondo me è estremamente importante capire al più presto qual è la cosa che ci appassiona qual è quella cosa che tiri fuori il pezzo di carta anche alle due del mattino e ti metti a fare i sketch i bozzettini chiaro perché ti piace farlo non c'è niente che ti spinge nient'altro nessun'altra motivazione solo per il piacere personale e quindi adesso che vedrai le lettere tue sulle borse di vesto pazzo penso che deve essere un'emozione infinita già mi sono fatto una cosa la scenetta magari beccherò qualcuno un giro una ragazza magari con la borsa che ho disegnato io cioè che ho disegnato diciamo la la grafica sulla borsa l'ho fatta io ma infatti che carina questa cosa è divertente è bello Gianca io ti ringrazio tantissimo ancora una volta grazie a voi sei un fratello proprio lo sai grazie saluto tutti quelli che sono in chat grazie per aver ascoltato grazie a tutti anche questo appuntamento ci vediamo la prossima volta a te con te ci si becca al Creative Pro Show quindi chi verrà al Creative Pro Show potrete incontrare Giancarlo sicuramente sarà un piacere conoscervi e ci vediamo alla prossima ciao a presto ciao ciao